Due cisterne riempite con acqua nuova alla Scuola Primaria San Franco e la Scuola Media Masci di Via Zara, ulteriori autocisterne a disposizione in caso di necessità. Francavilla al Mare si organizza in vista dell'ennesima emergenza edrica, ma questa volta non a causa della carenza, ma della segnalazione avvenuta nei giorni scorsi di acqua contaminata in alcuni serbatoi. Tracce di escherichia coli oltre il limite consentito, quanto basta per ordinare immediatamente il divieto di uso di acqua potabile previa bollitura. Sì, devo dire che non c'è mai fine al peggio. Pensavamo davvero di concludere questa crisi idrica con l'arrivo dell'autunno, invece non solo la carenza idrica è aumentata ed è peggiorata, con grandi difficoltà per buona parte della città, ma poi davvero la punta dell'iceberg è arrivata l'altro giorno con questa comunicazione di non conformità delle acque che ci ha messo davvero in difficoltà. Abbiamo disposto il divieto di utilizzo per uso potabile, quindi se non previa bollitura stiamo monitorando, stiamo comunicando in tutti i modi alla città quali sono, insomma come comportarsi e siamo in attesa delle analisi. L'ACA ha già subito provveduto a disinfettare, diciamo a pulire il serbatoio indicato dall'ASL, quindi ha subito provveduto. Nel provvedere e nel fare delle manovre ha creato ulteriori disagi perché ieri avrebbero avuto un'improvvisa carenza idrica in una grande parte della città senza nessuna comunicazione, per cui per l'intera giornata di ieri molte persone sono rimaste senza acqua, quindi davvero ho passato giornate solo a preoccuparmi del problema dell'acqua. Oggi siamo in attesa dell'esito delle analisi che sono state effettuate ieri dopo la pulizia dei serbatoi, speriamo che ci siano notizie positive e speriamo di poter revocare l'ordinanza il più presto possibile. Oggi in alcuni punti mi arriva segnalazione che ancora manca l'acqua, fondamentalmente qua nella zona di San Franco, però sembrerebbe limitata solo da alcune utenze, numeri civici e l'ACA se ne stava occupando.